bene vi siete divertiti quindi se non ho capito male ma ho dedicato alla vicenda le energie che dedico alle cose che mi appassionano il giusto perché in questo momento nell'interesse di chi ha inteso mandarmi qui ritengo che ci siano delle cose più interessanti da fare e le sto facendo non ho capito male la situazione è questa abbiamo 156 favorevoli al governo al senato dopo la riammissione a seguito della var dei senatori ciampolillo e nencini quindi diciamo poi abbiamo 140 contrari e poi abbiamo 16 astenuti 140 più 16 fa 156 quindi se l'astenzione come era una volta nel momento del senato mi dicono fosse conteggiata ancora e quindi fosse stata conteggiata oggi come voto contrario la votazione sarebbe finita a 156 a 156 e il governo non avrebbe avuto la fiducia non dando la fiducia al premier suppongo che poi dopo il senatore renzi sarebbe stato un po in imbarazzo nell'andargli a chiedere qualcosa dopo l'inevitabile gita del signor presidente del consiglio dei ministri dal signor presidente della repubblica peraltro molti sostengono che anche in queste condizioni cioè con una maggioranza che comunque è di 5 voti sotto la maggioranza assoluta dei componenti cioè è sotto i 5 a 161 anche in queste condizioni buona grazia istituzionale vorrebbe che una gita al guirinale si facesse io eventualmente posso dare anche 15 euro per un taxi se servono insomma e forse sarebbe anche interesse del visitato oltre che del visitante diciamo così promuovere questa iniziativa per diciamo salvare le apparenze ma questi sono fondamentalmente fatti loro diciamo le storie del signor presidente del consiglio dei ministri con il signor presidente della repubblica o quelle con diciamo l'onorevole senatore matteo renzi devo dirvi che viste da dentro mi appassionano quanto immagino che possano appassionare voi viste da fuori perché il problema non è quello il problema che ho sollevato anche oggi in aula è quello di capire se chiunque diciamo così vada perché tanto alla fine mi resterà uno solo e non saranno nessuno dei tre che ho nominato ma sarà un altro chiunque vada sia effettivamente messo in condizioni di governare questo non dipende da nessuno di quelli che ho nominato ma dipende dai processi storici istituzionali che ho evocato oggi oggi in aula e quindi tutto molto divertente si è vista la tensione e l'apprensione dei banchi nel governo era assolutamente assolutamente palpabile diciamo che se il centro destra gli vota contro loro per esempio uno scostamento di bilancio non riescono a farlo passare senza offrire qualcosa in cambio intendo lecitamente nel contesto di una sana e fruttuosa trattativa politica al senatore Matteo Renzi e alla sua Italia Viva mi sembra del tutto ovvio quindi tanto noi già abbiamo detto che votiamo a favore di qualsiasi cosa metta soldi nelle tasche degli italiani ma tanto siccome loro la fiducia la chiedono su tutto la chiederanno anche su provvedimenti che non sono provvedimenti di spesa se il problema è costringere il signor Presidente del Consiglio dei Ministri a chiedere la prova d'amore al signor onorevole senatore leader politico di Italia Viva con una fiducia a settimana non è che manchino le occasioni di assistere alle loro contorsioni anche senza opporsi a dei provvedimenti di spesa poi dopo naturalmente ci sono anche dei temi di tenuta interna ovviamente di questi di questi gruppi e che cosa vi devo dire visto che lo dico solo a voi e siamo fra amici mi perdonerete se ripeto la solita cosa che mi sentite dire abbastanza spesso io lo avevo detto ma non è che ci volesse un grande genio per capirlo perché questi qui sono tenuti insieme solo dall'odio nei riguardi di Matteo Salvini e ieri ero a colloquio con il rappresentante di un importante stato estero e mi faceva questa domanda ma perché perché tutti odiano così tanto Matteo Salvini e l'osservazione che lui faceva era abbastanza abbastanza ovvia penso che forse l'abbiamo anche anche sviluppata qualche volta ad esempio sul tema dell'immigrazione in fondo le politiche di Salvini magari ci sono delle sfumature che io non essendo del settore delle sfumature tecniche che io non riesco a cogliere ma la politica di Matteo Salvini era in continuità con quella del ministro Minniti non voglio risalire a quando a quando diciamo così una nave proveniente dall'Albania venne speronata facendo diverse centinaia di morti e nessuno fece neanche un plissé si tornerebbe parecchio indietro nel tempo e chi conosce la storia patria sa chi erano i personaggi coinvolti nei vari ruoli istituzionali all'epoca no ma una politica che si pone in linea di continuità viene accolta sostanziale linea di continuità viene accolta con uno scandalo e io diciamo così ho fatto la mia parte di autocritica cioè probabilmente ci saranno stati anche degli errori di comunicazione nel presentare certi temi all'opinione pubblica e poi però anche detto c'è un problema però un pochino più radicale purtroppo Matteo Salvini rappresenta un elemento di discontinuità genuina ed effettiva rispetto a questa politica qua che si spartisce i soldi che non arriveranno perché lui ha capito profondamente delle cose è andato da una reale volontà di cambiare quindi questo ovviamente lo rende in viso alle forze della conservazione va bene cioè poi una conservazione paradossale perché la conservazione del progressismo però c'è un piccolo problema però c'è un piccolo problema che sono sempre di più gli italiani che aprono gli occhi e quindi quindi se si arriva a 156 a 156 d'accordo non è per un caso o perché non so urano è entrato in quadratura con non lo so non è un fatto né astrologico né aleatorio è semplicemente perché il Parlamento patisce esso stesso il suo disallineamento dalla volontà popolare lo patisce e lo patisce tanto più quanto più ci si avvicina alla fine della legislatura perché naturalmente presentarti con la faccia odiosa dell'usurpatore di un ruolo a chi dovrà riconfermarti eventualmente o ve lo desiderasse in quel ruolo è chiaro che non è esattamente un buon viatico quindi molte persone stanno facendo le loro riflessioni e come sapete ci sono stati smottamenti oggi dall'una parte e dall'altra perché ci sono stati colleghi che da Forza Italia hanno lasciato il gruppo hanno votato la fiducia e quindi sono stati cacciati dal gruppo poi vai a sapere se la mossa, il retroscena non li so ma non mi interessano in questo caso non mi interessano neanche i numeri figuratevi se mi interessano i motivi dei numeri e dall'altra parte ci sono stati colleghi del gruppo misto che hanno deciso di dichiararsi contro questo governo e quindi di fare un gesto di apertura alla futura maggioranza di centrodestra naturalmente sono gesti che valgono anche per il tempo e per il momento in cui vengono fatti nel senso che voglio immaginare che alle soglie del 2023 il povero Conte avrà tutti addosso cioè nessuno vorrà bene a Conte il Bradipo vi ricordate Ice Age, l'era glaciale dove c'era quel povero Bradipo, Sid il Bradipo che si lamentava che nessuno gli volesse bene perché era un pochino petulante questa è la storia poi adesso se si va al proporzionale lui si fa il partitino fa l'aghino della bilancina avremo queste belle bilance con tanti aghi e ci godremo lo spettacolo non possono farci niente non possono farci niente ormai fatta salva una eletta minoranza chiassosa risiedente in quartieri che fra un po' dovranno essere circondati dal filo spinato perché verranno presi d'assalto incluso quello dove vivo io la sinistra è in visa a tutti e voglio dire abbiamo analizzato in lungo e in largo per anni, per un decennio con qualsiasi tipo di strumento analitico all'inizio con la macroeconomia ma poi con la sociologia con la semiologia con l'etnologia con qualsiasi tipo di strumento analitico il perché di questo suicidio rituale da setta satanica della cosiddetta sinistra basta io il lutto l'ho elaborato con me e tanti altri possono fare quello che vogliono fra un po' saranno costretti a mettere loro una bella patrimoniale sulle case sui conti correnti di quei quattro scemi che ancora gli vanno dietro e quando avranno compiuto questo finale atto anche nelle cosiddette elite qualcuno si sveglierà e capirà che da una parte ci sono persone che vedono prima quello che arriva dopo e cercano di utilizzare questa informazione nell'interesse del paese dall'altra ci sono solo dei servi dei disprezzabili servi incapaci di una elaborazione politica autonoma incapaci di difendere gli interessi di un paese che disprezzano e che li disprezza e sarà giocoforza sarà giocoforza abbandonarli al loro destino quello di questa sera è un passo piccolo timido incompiuto se vogliamo ma è un passo in quella direzione non sono cresciuti sono diminuiti attenzione sono diminuiti e quindi è stata una giornata mediamente interessante ho fatto il discorso che volevo fare Matteo Salvini ha fatto un bellissimo discorso e devo dire che anche Matteo Renzi ha fatto un bel discorso riconosciamoglielo perché quando è giusto è giusto me l'ho anche detto due discorsi belli un voto dai risvolti interessanti e adesso ce ne andiamo a dormire